Nelle prime ore della mattinata nelle province di Salerno, Avellino e Firenze, circa 200 militari del comando provinciale, supportati da quelli dei reparti territorialmente competenti del settimo nucleo elicotteri di Ponte Cagnano e del nucleo cinofili di Sarno, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della direzione distrettuale antimafia nei confronti di 26 indagati, 11 in carcere, 9 agli arresti domiciliari e 6 con obbligo di dimora nel comune di residenza, gravemente indiziati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti con l'aggravante del metodo mafioso e della transnazionalità del reato, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivo di arma, sostituzione di persona, uso di atto falso, falsità ideologica, favoreggiamento personale, ricettazione, minaccia e danneggiamento seguito da incendio. I provvedimenti scaturiscono da una vasta e articolata attività di indagine avviata dal nucleo investigatori carabinieri di Salerno nel mese di giugno 2017 sotto la direzione con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia. L'indagine ha permesso di ricostruire l'esistenza di un'associazione a delinquere con ruoli e competenze ben definite dedita alla commissione dei suddetti delitti con una disponibilità di notevole quantitativi di stupefacenti del tipo cocaina, hashish, amnesia e marijuana. L'associazione vantava un canale di rifornimento privilegiato con l'Albania e l'Olanda con circa due chili di cocaina sottoposti a sequestro. La compagine criminale gravitava attorno alle figure di spicco di Cuozzo Alfredo e di Lascio Sabato, entrambi pluri pregiudicati per stupefacenti e gravi reati contro la persona, i quali assurti avveri e propri manager del gruppo promuovevano e dirigevano l'associazione avvalendosi del metodo mafioso, che palesavano sul territorio di Ecerno attraverso una serie di gravi minacce, tra cui l'incendio di autovetture tese ad allontanare spacciatori e organizzazioni rivali, nonché ad imporre il loro predominio sulla illecita attività di spaccio, stabilendo in particolare il prezzo e i canali di approvvigionamento della droga. Nel corso dell'attività d'indagine sono state arrestate due persone in flagranza di reato e sequestrati oltre due chili di stupefacente. Il fatturato mensile dell'impresa criminale si aggirava intorno ai 100.000 euro.